ciao a tutti buongiorno qui abbiamo quattro numeri fortunati e due numerissimi tutti i numeri seguenti questo quattro numero 3 4 5 e 6 iniziamo con i numeri fortunati si va bene ora iniziamo 70 niente 62 anche 62 32 niente 41 pure 41 62 70 proprio niente 22 forse ve lo da 24 31 eccolo qua 43 27 non c'è 55 12 ecco 79 adesso non è tutto dai 49 eccolo qua 48 37 61 gli ultimi due 71 e 63 74 non c'è ok seconda passiamo primo numero 62 12 58 sempre qua in fondo 29 39 36 79 ecco la qua 32 sì 75 mamma mia guarda 73 74 46 22 22 27 80 e guarda 72 73 74 41 15 49 e 72 72 eccolo qua ecco la qua vincenti ecco la qua vincenti ecco la qua vincenti ecco la qua vincenti ok premio tenenene un 1 e 3 va bene così numero 4 33 04 ok ok terza passiamo 65 65 38 48 48 48 double pour 70 non c'è 72 72 56 66 eccolo qua 77 mi sa che questa noi sono 27 73 57 56 e 66 dai 31 ultimi due dai 36 l'ultimo 41 74 non c'è ok l'ultimo numeri fortunati primo numero 63 serie a numero 6 33 numero 66 63 60 44 c'è sempre 44 12 31 21 era 51 eccola qua 59 73 anche 73 16 niente 37 80 79 dai dammi 18 così questa si me lo da 18 non c'è 18 15 e comunque gli ultimi due numeri dai 74 e l'ultimo numero 26 68 18 niente soltanto 1 abbiamo vinto con quella lì ok speriamo che recuperiamo qua serie numero 13 numero 3 ci sto ci sto ci sto ok primo numero 67 eccola qua basta 49 49 non c'è 36 36 36 24 54 54 54 64 pure mamma mia 73 73 eccola qua 69 basta 63 58 58 58 58 50 niente 50 27 è impossibile 288 42 niente questa 44 32 l'ultimo 37 neanche questo via l'ultimo è il numero 2 via l'ultimo speranza 48 porti di annuncia 61 si 49 85 non c'è 85 25 sempre sotto 84 si dai e 86 come un baby 57 87 dai 86 58 e 78 dai 58 basta ecco l'altro 20 38 78 55 54 quella di prima si 54 per due mi sape questo niente 79 niente 73 e last number 52 niente soltanto 3 euro niente ho perso 21 euro ah no 19 euro ok va bene così e ci vediamo alla prossima ciao ciao